Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Night of the Dead, gioco che costa circa 21€, 20,99€ su Steam e Daniel di Access. Inizio col dirvi che il gioco non innova assolutamente il genere, perché il genere è quello dei Seven Days to Die e simili. Noi dobbiamo sopravvivere in questo mondo post apocalittico, mangiando, coltivando, uccidendo zombie, sopravvivendo all'assalto notturno degli zombie. Possiamo creare i nostri edifici, possiamo creare le nostre armi, i nostri utensili ed è un gioco che appunto non innova ma sicuramente sarà ben apprezzato da tutti i fan dei survival zombie. Il gioco sembra anche piuttosto seguito perché uscirà nell'arco di quest'anno, a partire da gennaio ci sarà un grosso aggiornamento sul combattimento, ci saranno poi dei fix dove poi ci condurranno a giugno, dove ci sarà il primo grosso update dove verranno aggiunti il sistema elettrico, nuove cose craftabili, cioè sarà reso più profondo il gameplay fino ad arrivare alla seconda metà dell'anno barra 2022 dove verranno aggiunte cose ancora più succose come la possibilità di pilotare veicoli e di affrontare degli zombie boss. Iniziamo la nuova partita, benché lo abbia già iniziato, c'è il multiplayer, tra l'altro potete giocare sui server ufficiali oppure o stare la vostra partita con un amico. Abbiamo diverse difficoltà, tra cui anche la customizzabile, quindi dalla vita degli zombie, il danno che fanno gli zombie, la velocità di movimento, quanti ne spawnano nel mondo, quanto è grossa l'ondata, quanti animali e quante risorse trovate in giro. Noi giochiamo a normal, anche se peaceful non sarebbe male. Possiamo spuntare queste cose dove responano le risorse, possiamo spuntare, togliere diciamo il fuoco amico, togliere le ondate e attivare l'alcore mod, cioè dove moriamo e moriamo definitivamente. Io metto quello, ma in realtà poi non andremo a fare granché. L'ho trovato ottimo dal punto di vista del posizionamento della base, insomma, delle cose costruibili. Sembra anche fatto piuttosto bene. Però lo andremo a vedere, anche perché il costo non è poco. E quindi, intanto iniziamo a scavicchiare un pochino. La visuale, ecco, in prima persona arriverà probabilmente a giugno. Al momento c'è solo quella in terza. Però so che la maggior parte delle persone adorano la visuale in terza, a parte il cervo che salta come se fosse arrivato a Natale. Comunque, il primo obiettivo è distruggere l'auto per ottenere dei pezzi. Eccolo qua. Dei pezzi di... Ok. L'obiettivo finale, perché il gioco ha un obiettivo finale, è quello di lasciare l'isola dove ci troviamo. Infatti, vedete che qua non abbiamo ancora esplorato nulla. Calcolate ogni mappa è diversa, perché in un'altra partita l'ho partito qui. Trovando indizi sul diario. Quindi, ok, andiamo avanti. Dobbiamo distruggere il bush, quindi il... il cespuglio. Almeno così ci dice. Spero sia questo il cespuglio, se no adesso ne cerchiamo un'altra. Ok, no, era questo. Allora, dobbiamo craftare una felling axe, quindi praticamente premiamo il tasto tab e andiamo in questo inventario che ricorda molto a me, con una grafica così shader mi ricorda molto Tredici, un gioco vecchissimo che poi hanno fatto la remake che è stato un fallimento totale. Dobbiamo usare un ramo che abbiamo preso, un pezzo di ferro, una vine, una corda, insomma, un viticcio e una small stone che al momento non abbiamo. Quindi dobbiamo andare a cercare una small stone che si trovano per terra, vedete, take. Le prendo, le prendo, ok. E a questo punto possiamo craftare la felling axe. La facciamo, l'abbiamo fatta. Quindi a questo punto la trasciniamo sul tasto 2. E in questo caso abbiamo l'ascia. Distruggi alberi per raccogliere i log. Quindi in questo caso, vedete... Poi qua sembra, ecco appunto, che siamo usciti da un volt, diciamo trama non originale però. Ecco, vedete che i pezzi d'albero si staccano, copiosi, e poi abbatteremo l'albero che implode su di noi e ci dà del legname. Possiamo ancora abbatterlo. Andiamo avanti, continuiamo. Ok, ora quello che dobbiamo fare è costruire foundation. Quindi premiamo il tasto B, selezioniamo casa, perché qua vedete abbiamo varie cose da craftare, utility, fare, cioè è fatto bene da questo punto di vista. Verranno aggiunte ancora a giugno anche nuove trappole, dimenticavo. Foundation, quindi vedete, foundation o floor, pavimento o fondazione, fondamenta. Ci servono le vine. Le vine possono essere ottenute da i materiali naturali, quindi praticamente dovrebbe essere ottenibile da questi e dai cespugli. Quindi abbiamo preso delle vine, abbattiamo ancora un altro cespuglio. Dobbiamo fare attenzione perché qua ci sono anche animali selvatici, quindi orsi, e gli orsi in ogni gioco di questo genere sono assolutamente letali. Quindi dove la facciamo la base? Io direi non davanti al bunker. Non ho ancora capito una cosa, adesso poi ci guarderò. Se hanno una durabilità gli oggetti. Quello lo dovremmo capire. Io poi cerco anche di medesimarmi in voi che magari vedete l'ennesimo gioco di un certo tipo. Ed è difficile con così tanti giochi di questo tipo decidere di andare su uno piuttosto che sull'altro perché ce ne sono veramente secondo me troppi giochi zombie, ondate, sopravvivenza. Ma è anche vero che se un appassionato del genere, come io una volta ero appassionato ai giochi di ruolo e li provavo tutti, insomma, giochi del genere non richiedono fortunatamente neanche la necessità di avere la lingua italiana. Tra l'altro, verso fine anno e inizio anno prossimo ci sono già zombie, quindi non mi va, arriveranno a nuove localizzazioni. Quindi si spera che arrivi anche l'italiano. Allora, in questo caso, dato che ci sono zombies e non mi piace perché sicuramente questi giochi poi si muoiono istantaneamente con i zombie, andiamo a costruire la base qui. Quindi la facciamo qua, dò solo la parete che potrebbe essere un'ottima scelta. Quindi, floor, foundation e vedete che possiamo craftare build e poi la andiamo a piazzare. La cosa molto bella è perché possiamo, vedete, col tasto Q abbassarla, è tutto molto ottimizzato perché snap, snap, rotate, vedete, la facciamo, la piazziamo più qua, più così dai, sì, e build, tenendo premuto, ok, l'abbiamo costruita. Ora, dobbiamo costruire delle scale. Quindi, andiamo a stair, e abbiamo tutto quello che serve. Possiamo fare T upgrade anche, quindi andare a, ovviamente, renderle più belle. Però, vabbè, intanto, ecco, cosa molto bella che mi è piaciuta molto, il fatto che potete, vedete, fare una cosa di questo tipo e si ottimizza proprio in modo spettacolare e quindi non siete costretti a fare delle palafitte sempre e comunque e si sale molto agilmente. Ora, col tasto L possiamo accendere o spegnere la torcia che abbiamo posizionato sulla cintura. La torcia così mi ricorda molto Saints and Sinner, Walking Dead nel gioco VR, M, check the map, sì. Col T upgrade, vedete che andando a costruire dei mattoni, del cemento, possiamo andare a rendere la nostra casa non più di legno ma di cemento, quindi facciano vedere la propria casa. Crea il production table, quindi B, qui, equipment, e poi, vedete, possiamo fare il production table per cui ci servono dei legnetti, delle small stone, un pezzo di ferro e log. Quindi, a questo punto, il gioco ci fornisce tutto quello che ci serve perché possiamo andare a rompere il camioncino, il ciamoncino, e prendere del ferro, anche Cloth, Iron Plate, fantastico. E tutto molto, cioè ho sofferto meno in altri, ho sofferto di più, scusate, in altri giochi. Qui ho sofferto proprio meno rispetto ad altri titoli a recuperare tutto quello che serve. Quindi, mi manca proprio l'iron, però adesso intanto iniziamo a recuperare un po' di roba che è molto utile. Posso colpirlo il camion? Sì, ma non mi fa niente, non mi da niente, mi ha già dato tutto quello che poteva darmi. Però, qua abbiamo un'altra auto, quindi distruggiamo anche l'auto, andiamo a recuperare altri piece of iron. Ok, diamo un'occhiata adesso sul crafting, poi vi faccio vedere anche gli altri menu che si possono fare. Mi manca un iron ancora, dei log e dei legnetti. Quindi, altro iron, questo direi. Speriamo che non sia alluminio. Ok, ha recuperato. Mo' andiamo a prendere l'iron. Poi abbiamo settato che la partita rigenera le risorse, quindi per i più paranoici il problema non si pone, perché passato tot giorni vengono rigenerati. Abbiamo preso anche delle mele. Poi, va bene, non abbiamo guardato le statistiche che vedete in alto, quindi la stamina piuttosto che quella gialla, la vita che è quella rossa. Scusate, sì. Adesso poi andiamo a vedere. Adesso vi faccio vedere. Allora, praticamente qua l'equipaggiamento, i vestiti che possiamo andare a cambiare, la sacca delle munizioni, la sacca del cibo e la sacca dei materiali. Quindi questo è quello che si può fare. Col tasto I o col tasto TAB si può accedere a uno o all'altro. Col tasto B si craftano sia i pavimenti, i muri, le fence, le scale, i tipi di parete, con la porta, con la parete normale, con la finestra, la colonna. Abbiamo l'equipment table, che adesso ci manca ancora una small stone che andiamo a recuperare, per il resto abbiamo tutto. La cooking, abbiamo il cooking table e l'utility, invece abbiamo il tavolo della ricerca, la farm, la bush plantation, la tree plantation, la quarry machine per distruggere le pietre. La mining machine, molto interessante. La oil pumping machine, sono fasi diciamo queste molto molto avanzate di gioco. Il gioco, per quanto sia comunque, non dico indietro, però abbia bisogno ancora di diversi aggiornamenti, magari per raggiungere il livello di altri titoli, per lo stato in cui si trova ora, io lo trovo decisamente ottimo, perché mi ha già dato molti meno problemi che altri giochi nel piazzare tutte queste cose. Crafting table, cosa che devo fare? Equipment production. Ok, ma non mi interessa l'equipaggiamento, io voglio fare... Craftiamolo, e vedete che lo possiamo piazzare. Cioè, si piazzano veramente benissimo anche il modo in cui abbiamo creato questa cosa qui. Cioè, è veramente ottimizzato parecchio. Guardate, la piazzo lì, così almeno... Andando qua, con craft, ci apre nuove cose. Ora, la missione ci dice, make a bow, quindi fai un arco. Perché, in pratica, andando con tab, l'arco non c'è. Possiamo farci solo le frecce. Invece, andando sul tavolo, l'arco ce lo dà. Ci servono 3 branch e vine. Quindi, 3 branch non le abbiamo. Però, la natura ci fornisce tutto quello di cui abbiamo bisogno. Quindi, andiamo a fare i due cose qui. Quindi, ok, dovremmo avere tutto quello che serve. Craft, bow. Crafta il bow. Lo mettiamo qui. Poi, make a sleeping bed. Quindi, B. Questo. Utility. Vedete che non abbiamo visto questo, il fuoco. Le torce. L'interior, quindi le sedie. Le sedie, gli scaffali, i tavoli di ferro, i tappeti, le decorazioni. Io faccio la bandiera. Sleeping bag. Sleeping bag ci serve pezzi di gomma, pezzi di clot e foglie. Allora, pezzi di clot ci mancano. Quindi, dove li recuperiamo, i pezzi di clot? Non ne ho idea. Quindi, andiamo a dare un'occhiata nelle scatole. Piece of clot. E anche materiale di ricerca. Adesso prendiamo... Ecco, queste sono le cose, gli indizi, col journal, che ci consentono di scoprire indizi su come lasciare l'isola. Quindi, su nuovi punti dell'isola. Quindi, quando avremo esplorato abbastanza l'isola, troveremo che in questa parte qui, insomma, c'è qualcosa. Vai le coordinate 15, 40, 17, 87. Puoi ottenere item al secondo piano della facility dell'istituto di ricerca. Quindi quello è molto, molto interessante. Allora, la sleeping bag... ci manca ancora due clot. Quindi io vado avanti con circa spezione, ovviamente. Perché là ci sono degli zombie. Beh, lì è stato ingegnerizzato benissimo il posto, eh. Proprio ottimizzata la luce con due lampioni così. Vabbè, intanto, vabbè, altro materiale da ricerca, altro pezzo di clot. Il clot si trova dentro le scatole. Meglio che ci siamo, scusate, abbattiamo anche questo. Dovremmo poter fare lo sleeping bag adesso. Eh, sì, infatti. Craftiamolo. Abbiamo preso anche copper wire, quindi molto bene. Questo aveva già fatto, questo aveva già fatto. Abbiamo demolito praticamente tutto ormai. Beh, prendiamo anche qua, che ormai non si sa mai che cosa ci richiedano dopo, come tutorial. Io in questi giochi preferisco iniziare col tutorial in modo che, anche se l'ho già fatto, vi faccio vedere un po' tutto, senza dimenticarmi nulla. Allora, andiamo, tac, tac, sleeping bag. Ok, il sacco a pelo è nostro. Lo piazziamo magari qui, a lato, no? Al momento. Cioè, scusate. Ok. Non me lo fa mettere? Sì. Ruotalo. Dormire in mezzo all'erba? Magari no, lo metto qua, dai. Facciamo i verboni. Allora, create a small animal trap. Quindi, qui, animal, small animal trap. Ci servono un boulder, boulder, che non so come si crei. Quindi, ok, quando una roccia è stata distrutta, quindi va bene. Dobbiamo trovare dei semi, ottenere dai cespugli degli alberi e foglie. Ok. Quello, vabbè, andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Facciamo fuori un po' di cespugli e vediamo se riusciamo a ottenere un po' di quello che ci serve. Ok. Foglie, erbe. Foglie, erbe. Vabbè. Facciamo fuori i pinetti, qui. Erb, vine, tree. Abbatti tutto, tanto chi se ne frega. E... Volevo fare, però, anche il piccone, per andare un po' a scavare, perché non posso colpire con l'accetta il... le rocce qua. Io presumo, perché non si può... o si... a rischio di... vabbè, non dovrebbe rompersi l'accetta, però... Diciamo che hanno studiato altre cose, tipo il pickaxe, che posso fare e lo faccio in modo che lo usiamo subito col tasto 4 e prendiamo magari anche il boulder che ci serve. Bello il modo in cui si rompe la roccia. Poi a un certo punto esploderà. Sì, infatti, eccolo qua. Abbiamo preso boulder che ci serveva molto bene. Adesso io voglio capire se prendo questo, se posso usarlo sulla pianta. Sì. Live, tree branch. Prendi tutto. E continuiamo così, va. Eh, devo prendere i semi, ma i semi non li trovo, mannaggia. Ah, ok, abbiamo trovato dei semi adesso. Ok, vediamo se riusciamo a farla. Già, adesso la trappola per gli animali. Sì, fantastico. Eh, la piazzo. La piazzo magari non vicinissimo a casa. La mettiamo magari qua nel boschetto della mia fantasia. Dove c'è un fortio di animaletti un po' matti. E... La mettiamo qui. Animal, small trap. Ok. Mettila lì. Dec. Molto bene. E qua probabilmente c'è qualcosa sotto da... Che poi fa scattare la trappola e uccide l'animale e noi ce lo mangiamo. In realtà... Non so ancora cosa sia in alto a destra quella... Quella cosa lì. Quella... Quel... Quel menu lì. Eh... Lo sto ancora esplorando il gioco, quindi... Va bene. B. Così. Utility. E facciamo la research table. Che serve. Woodenplunk. Lumber. Rope. Che non abbiamo. E... Nile. E chiodi. Ma li possiamo craftare in qualche modo o no? Che qua possiamo andare in varie sezioni. Possiamo potenziare, fare degli attrezzi con un più uno. Quindi possiamo potenziarli. Cercare di potenziarli. Fare del Nile. E... Ah no. Disassemblare qua. Ok. Ok. Possiamo disassemblare. No. Ma io vorrei costruire. Material bag. Ballista. Trowinax. Dynamite. No. Vabbè. Eh... Niente. Questo sarà una cosa... Il pannello della ricerca è un po' più complicato del previsto. Mi sa che dobbiamo andare un po' avanti. Diamo nuovamente un'occhiata a quello che si può fare, ma... Allora. Lumber. Il Lumber. Io mi domando. Ma scusate. Non c'è... Material production table. Eh... Direi... Scusate. Boulder. Eh... Dei rametti. Eh... La facciamo subito. Il tavolo, no? Quindi. Abbatto questo. E poi prendo il piccone e scaviamo che è una roccia. Almeno facciamo il tavolo da lavoro dei materiali. Così possiamo craftarci quello che ci serve. Piccone. E ci prendiamo anche del boulder. Eh... Diciamo che mi prende bene. Mi prende bene. Diciamo l'unica cosa... Lo dovrò tenere d'occhio perché sicuramente... Io poi sono uno abbastanza fissato con alcune cose nei giochi. Soprattutto gli impianti elettrici e le varie alimentazioni, batterie e così. E quindi dovrò aspettare che arriveranno anche quelle funzioni di... Già. Per un appassionato. Eh... Allora. Craft material production. Cosa manca? Un rametto. Mamma mia. Un rametto. Tutto per un rametto. Eh... Sì. Vabbè, dai. Ma sembra che non finiscano mai questi gespugli. Comunque appena prendiamo un branch. 3 branch. Ok. Perfetto. Andiamo. Fai. Craftar. Riusciamo a metterlo anche non necessariamente sulla base? Build. Possiamo metterlo tipo qui? No? Sì. Sì. Eh dai. Mettimelo qui. Tanto che se ne frega. Ok. Craftar. Ora possiamo fare... Cioè con il vine facciamo un 3 branch. Un wood plank. E un lumber. Ok. Chiede ai log. Ok. Prendiamo dei log. Prendiamo dei log. Prendiamo dei log. Dai, dai. Non me lo fa più colpire, mi sa. Vabbò. Andiamo avanti. Dai. Deforestiamo un po' la zona perché almeno... Che poi ogni missione che facciamo all'inizio col tutorial ci da delle ricompense. Quindi... Voglio abbattere un albero un po' più grosso. Tipo questo. Ci da anche semi e tutta roba che possiamo portare. Tutto molto bene. Ripeto, il gioco... Il mio punto di vista è ottimo. Non era passato abbastanza in sordina. Infatti ho detto quando l'ho visto... Ho detto... Solita roba. In realtà no. In realtà... Non è male. Allora, voglio arrivare perlomeno a fare il research table. Utility. Research table. Dobbiamo fare due lumber e due plank. Due lumber e due plank. Due lumber e due plank. Quindi, plank. Vedete? Una. Due. E due lumber. Una. E due. Non c'è animazione ovviamente, quindi... Ah, guardate un po'. C'è il livello 2 da sbloccare che ci fa il cemento. Trim and stone. Brick. Ok. Voglio fare... La corda. Ma la corda non so come si faccia a fare. Perché... Vedete che qua adesso per fare il tavolo da ricerca abbiamo già praticamente tutto. Ma la roop è fatta di clot. Può essere fatta nel crafting table. Ma non l'abbiamo il crafting table, se non ricordo male. Sì, però possiamo farlo adesso. Eh... Facciamola. Cioè, almeno c'è tutto, no? Qua ci mostra... Un tavolo molto più grande di quello che è. Perché probabilmente sono tutti gli aggiornamenti che li andremo a fare. Quindi andrà ad aggiungere tanti altri tavoli. Allora... Clot Nile. Processed. Roop. Eh... Però ci serve il Clot. Eh... Mannaggia, sei un punto di partenza. Perché poi il tavolo da ricerca... Il tavolo da ricerca... Ci consentirà di... Ricercare... Varie skill usando... Ok. Vabbè... Andiamo avanti. Vediamo se troviamo qualcosa. Andiamo... Tranquilli. Sono le 13. Presumo... Lì c'è un cinghialone... Ma... Credo che ci lasci in pace il cinghiale. Con il tasto... Eh... Control... Ci muoviamo furtivamente. Andiamo a recuperare un po' di Clot. C'è anche una casa lì davanti. Piece of Clot. Ci serve Clot per fare la corda che ci manca. Per il legname non c'è problema. Questo è altro ferro. Io non mi avvicinerei oltre perché... Nei giochi di zombie finisco sempre molto male. Eh... Ci sono funghi. Sì. Red mushroom. Eh... Scusate adesso. L'arco. Non abbiamo le faricce però. Scusi... Bel cervo. Venga qui. Va bene. Intanto questa la possiamo distruggere. E magari ci troviamo anche il Clot dei sedili. No. Piece of Iron. Plastic pieces. No. Ok. Ok. Pezzi di plastica però. Comunque. Non male. Anche questo. Lo prendiamo. Allora. Vediamo un attimo. Vediamo un attimo. Eh... Anche questo che mi dà molto fastidio qua davanti. Perché è vicino a casa. Allora. Allora. Abbiamo detto. Per il tavolo della ricerca. Ci serve. Le plank e quello non sono un problema. Dobbiamo riuscire a fare solo una rope. Quindi. La rope. Clot. Non riusciamo a farlo. Però il Clot. Si. Con i pezzi di Clot. Facciamo il Clot. Ok. Quindi. A questo punto. Facciamo la corda. Fatta la corda. Dobbiamo fare. Un wooden plank. Un lumber. E a questo punto. Dovremmo poter fare. L'ultima cosa che volevo farvi vedere in questo video. Che sono. Che è il tavolo della ricerca. Quindi. Build. Piazzamelo qui. Poi vabbè. Qua ho fatto un po' tutto a cazzo. Perché. Volevo. Farvi vedere. Poi in realtà dovrò ripiazzare tutto. Farci la casa. Insomma. Bello con la libreria. Cioè. Graficamente è fatto bene. Ok. Molto figo questo. Perché praticamente qua possiamo andare a ricercare delle varie cose. Spendendo. Materiali. Materiali della ricerca. Quindi in questo caso. Vedete qua possiamo andare a craftare una spada a due mani. Una pipe. Un tubo. Le shuriken. I coltelli da lancio. Skill più 4. Cioè fai armi. Riesci a craftare armi più potenti. Animal Hunter. Praticamente fai 20% di danno in più agli animali. Junior Engineer. Puoi fare. Plastica fatta dai pezzi di plastica. Puoi fare. Ok. Puoi fare anelli di gomma. Puoi fare il nastro adesivo. Gourmet invece di migliorare la cucina. Natural Human. Puoi coltivare. E poi va via via. Master Blacksmith. Combattente. Boxer. Forest Worker. Junior Builder. E calcolate che siamo ancora agli inizi perché il gioco non è uscito da tanto. Quindi veramente molto molto interessante. Attenzione. Qua è scattata la trappola. È scattata la trappola. Ed è finito sotto questo poveretto a cui viene tolta la pelle. Ok. Abbiamo preso della carne. Un coniglio in pratica. A ricarica. Cioè io mi dico perché uno dovrebbe andare lì sotto e dovrebbe metterci perlomeno qualcosa da mangiare. Ma va bene. Dobbiamo fare con questo. Così. Mili. E il pendulum. Che è. Sì. Beh qua serve di tutto. Serve un botto di roba. E ci permette di spingere. È enorme questa cosa. Di spingere lontano gli zombie. Ovviamente non abbiamo visto nulla per quanto riguarda gli zombie. Perché abbiamo temporeggiato. Tuttavia. In conclusione di video. Ho salvato apposta. Voglio vedere che cosa succede quando si muore. Perché nella partita che ho fatto anche prima non sono mai morto. E questa l'abbiamo giocata molto di istinto. Attenzione. Aspettiamo di ricaricare. Vedete che in alto a sinistra la vita è già scesa un po'. E dovremmo mangiare probabilmente. Però anche la stamina è scesa. Adesso aspettiamo lo zombie. E lo zombie fugge. Verso i suoi compagni. Scusi eh. È tosto però. Ok. Ok. Poi. Il primo survival che io trovo. Il survival proprio il più complicato mai visto è sicuramente Project Zomboid. Ok. Niente no. Non recuperiamo nient'altro. Tuttavia. Abbiamo una casa da vedere. Lo zombie va giù. Mmm. Ci sta. Diciamo che è coerente. La. Quello che ci è voluto per. Per buttarlo giù con una semplice ascia. Eh. Ovviamente poi con l'arco probabilmente. O le armi da fuoco. Sarà più semplice. Di sicuro. Adesso qua c'è una casa ma. Purtroppo. Non riesco a entrare. Non mi compare neanche il simboletto rosso per abbattere. Qua sì però. Vediamo se riusciamo ad abbattere la. Non credo. Ho abbattuto quello che c'era oltre. Ma bastava fare il giro. E c'è la porta aperta. Diamo un'occhiata alla casa giusto per capire anche com'è fatta all'interno. Se ci troviamo di fronte a grafica del disagio o meno. È intrigante. Devo dire. Mi scusi eh. Io procedo oltre. Scusi. Oh mio dio! C'è il mondo dentro. Adesso vediamo cosa succede quando si muore. Perché gli zombie qua fuggono. Prendo il coltello. Vediamo se col coltello siamo più fortunati. Ma dubito. Uno è andato. È più veloce. Decisamente più veloce. Fuggono gli zombie. La cosa che mi fa un po' storciare il naso di questi giochi è il fatto che comunque si continui a. A puntare su questo discorso del. Delle ondate. Che le ondate. Meta World Defense non mi piacciono. Allora. Eccolo lì. Continuate. Vanno giù anche abbastanza facilmente con il pugnale. Però va bene. Allora. Ok. Abbiamo trovato dei chiodi. È entrato anche il tizio lì. No. Il tizio lì ci aspetta ancora. Buona di. Abbatti. Abbatti. Poi calcolate che tutto quello che abbiamo visto lo potete giocare con un amico. Quindi. Allora. Abbiamo preso delle cose interessanti. Possiamo andare a cambiare i pantaloni. qui. O è là. Eh. Il sneaker. Sì. Siamo praticamente ultra sportivi ora. Ci abbiamo i pantaloni della tuta. Va bene. Ok. Allora. C'è qualcosa anche lì. Vediamo magari qualche arma. Arma da fuoco. No. È tutto pezzo. Rifle bullet. Sì. Abbiamo trovato dei pezzi di. Delle munizioni da fucile. E magari trovarci anche un fucile. Ecco qua. Abbiamo una crossbow. Bellissima. Aprendo subito. Che l'ha l'equipaggio. Ah. Ma ne avevo già una. Ok. E poi vabbè. Prendi tutto. Materiali da ricerca. Trim and stone. Iron plate. Ok. Dai. Bene. Volevo vedere solo una cosa. Ok. Lo spazio è limitato. Ok. Non è il peso ma è lo spazio in questo caso. Va bene. Abbiamo recuperato un po' di roba. La crossbow è bellissima. Alla. Daryl. Ci mancano solo le frecce. Voglio vedere adesso cosa succede con la morte. Questo salta. Male. Molto bene. Vabbè. Vabbè. Ora ragazzi. No. Questo è tosto. Non ci sono ancora gli zombie boss. Ma voglio vedere adesso cosa mi succede se mi faccio uccidere. Vediamo. Giusto per sei morto. Revive. Dovremmo ripartire dalla base. Dal nostro. Ok. Ma abbiamo perso tutto. Quindi. Dobbiamo andare là e recuperare gli oggetti. Io presumo. Diamo un'occhiata. Vedete che la mappa è molto bella. Tra l'altro. Tra l'altro. Io mi ricordo. Vedete queste cose qui. Non è che risulta qualcosa con. No. È proprio diverso. Come disegno. Va bene ragazzi. Questo è Night of the Dead. Fatemi sapere che cosa ne pensate. E noi ci sentiamo nel prossimo video game play. Alla prossima ragazzi. E ciao ciao. Ciao.